C'è un modo semplice per godere della serenità del nostro oceano e della ricchezza della nostra terra. Un modo semplice per godere di una rara solitudine e vivere ogni momento. Un modo semplice per godere dei tesori sotto la superficie marina. Un modo semplice per vedere tutto ciò che si può trovare nelle nostre isole, conservate in modo unico. Con un capitano e un equipaggio a bordo pronti a prendersi cura di voi, tutti possono navigare nelle isole di Tahiti. Sentite ogni senso prendere vita. Sentitevi al sicuro nelle isole di Tahiti.